Io lo dico sempre, se fai bozzetti rapidi prima, lavori meglio e più in fretta poi, non ci credi? Vieni a vedere! Quindi tu sai che questa zona, così, così addirittura, guarda, tutta questa zona qua, così, 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 e così, questa qui è tutta in luce, ok? Questa altra zona è penombra, ci siamo? Tu hai fatto, allora, 12 esercizi su questa cosa, te li ricordi? Sì. Te li devi continuare a ricordare? Cioè, non è che fate, come dire, quella cosa lì è un'aggiunta al bagaglio, se non te la porti istintiva, se non è diventata istintiva, devi fare altri esercizi di questo tipo, perché poi tu facevi queste separazioni qui, io adesso le ho fatte grossolane, e poi andavi e ti prendevi del grigio, no? E dicevi, però qui è più scuro, adesso prendiamolo più scuro, se no, dice, però qui è più scuro, però qui è un po' così, qui sfuma, e qui c'è un po' di ombra, in questa zona qui, e questo è tutto grigio, però qui c'è il nero, però è chiaro il concetto? Qui ce n'è un po', no? Eccetera. E poi qui ci saranno delle zone più chiare. Guarda che succede, se io prendo questo, che è uno scuro, no? Guarda che succede qui, diventa un chiaro. Non si scappa. Questa cosa qui, dobbiamo farla diventare un istinto. E a un certo punto lo diventa, eh? Non è... Però, lo diventa molto rapidamente, se tu te lo tieni presente e se segui quei passaggi là. Allora, il che vuol dire però che per ogni ritratto, ogni ritratto, come dicono a Parigi, diventa una qualsunque, quanto una quaresima. Ci siamo? Perché devi fare 50 studi prima di andare a dipingere. Ed è lì che ti entra il ritratto piccolo, è il bozzetto piccolo. Perché? Perché fai fretta. Chiaramente, facendo il bozzetto piccolo, te ne strafreghi di che sia preciso, perfetto. Ma ti vai a valutare, vai a valutare, ti dice, faccio il bozzetto per capire la mappa dei valori. Quindi, luci massime, luci massime, cose, vai a cogliere questa differenza qui, vai a cogliere queste cose, no? E, ok, l'ho capito. Poi dice, vada, lo faccio un po' più preciso, e allora vai a fare quell'altro. Vada a cercare i piani, vai a cercare i piani facciali. Allora, quali saranno i piani? Qui c'è un piano facciale, qui c'è la fronte, guarda, c'è la fronte, qui c'è la piega, anzi, qui c'è la piega fra la tempia e la fronte. Ci siamo? Qui c'è un passaggio intermedio, qui finisce, qui, ti ricordi quello schema? Qui c'è la... Ok, ci siamo? Qui c'è l'orecchio, siccome c'è l'orecchio, qui, qui c'è questa linea qui, te la ricordi? Qui c'è la scodella della faccia. Ok? Tutte queste cose qui, questa, e qui c'è un, qui c'è un altro arco così, no? C'è una linea, e qui c'è il pallino del mento, qui c'è il pallino della bocca, qui c'è un collegamento fra questo e questo, e fa così. E te vai a vedere, questo è lo schema di... Ray Lee. Ok? Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9 e mezza di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu! Ciao! Ciao! Ciao!